Sembra che Chiara Ferragni, regina indiscussa dei social, sia di nuovo al centro del gossip. Dopo aver chiuso la sua relazione con il bello ortopedico toscano, l'influencer pare abbia messo gli occhi su un nuovo uomo, Silvio Campara. A rivelare il presunto flirt è stato da gospia qualche settimana fa, ma la situazione si complica rapidamente. Campara infatti è sposato, e la moglie Giulia Luchi sarebbe stata proprio colei che ha cercato di aiutare Chiara in un momento difficile della sua vita. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, tutto sarebbe iniziato a Forte dei Marmi, dove Chiara ha stretto amicizia con Giulia. Tuttavia, l'amicizia tra le due donne è stata presto oscurata dal crescente interesse della Ferragni per Silvio. Il dramma è esploso quando Chiara, in un momento di confidenza a Capri, avrebbe detto «Lui me lo prendo», mostrando con orgoglio le foto che scambiava con il nuovo fidanzato. La frase avrebbe inevitabilmente raggiunto le orecchie della moglie, scatenando una tempesta. Giulia non ha esitato a confrontarsi duramente con Chiara, ma l'influencer, senza battere ciglio, ha ammesso il suo interesse per Silvio. In tutto questo, Fedez, con il nome dato al nuovo cane, sembra quasi aver previsto tutto.